L'US Agropoli cala il poker all'esordio stagionale contro il Vico Equenze al Mario Vecchio di Capaccio Pestum. La gara è decisa nel secondo tempo quando i Delfini recuperano lo svantaggio dei primi 45 minuti e poi portano a casa la sfida. Il primo tempo, giocato sotto un gran caldo, vede il Vico passare in vantaggio su calcio di rigore al diciannovesimo di Petricciuolo dopo una doppia palla goal non sfruttata dagli ospiti. Dal dischetto il numero 11 è freddo e spiazza Pragliola. La risposta dell'Agropoli non tarda ad arrivare ma il colpo di testa di Vitelli si perde di poco sopra la traversa. La gara si innervosisce sul finale e l'ultima occasione della prima frazione arriva con un destro sempre alto di Guzzo. Nella ripresa però è un'altra Agropoli che entra in campo con un altro piglio e conquista subito il pareggio grazie a Bacio Terracino che mette in rete un pallone vagante in area ospite. Sulle ali dell'entusiasmo continua il forcing dei Delfini e sempre Bacio si rivela protagonista procurandosi il rigore che poi Margiotta trasforma al ventesimo della ripresa. Il bomber dunque si sblocca al trentatreesimo, cala il poker dopo una respinta corta di Borrelli su tiro di Masocco. Nel finale inoltre il gol di Roghi che bissa la marcatura di mercoledì in Coppa Italia.